Tutto nei primi quattro minuti tra Campobasso e San Nicolò che non si risparmiano affatto e danno vita ad una gara aperta ed accesa. Il primo tempo si lascia preferire per l'intensità e lo spettacolo. Nel secondo i rosso-blu perdono geometrie per l'uscita di Lanzillotta a causa infortunio. A sorpresa Epifani sceglie di tenere fuori i chiacchiarelli che entrerà ma non bene nella ripresa. Si gioca di fronte a 1300 spettatori, Selvapiana accoglie con favore l'iniziativa della società di stracciare il costo del biglietto della curva. Dopo 42 secondi c'è il corner battuto da Moretti, si tuffa Rapino che incoccia la traversa, Bucchi va con il sinistro in mezzo a Ferrani e Rinaldi trovando la mano di Grillo sulla linea. Poi il tuffo finale vincente dello stesso Bucchi, un lampo, il vantaggio ospite dell'ex di turno su cui protesta il Campobasso per un presunto fallo ai danni di Ferrani. Il pareggio è subito servito al quarto direttamente da calcio di punizione e il sinistro di Rinaldi termina alle spalle di calore, probabilmente non toccato da nessuno. E' uno a uno immediato con l'esultanza della curva nord-scorrano, partita vibrante al dodicesimo discesa di Alessandro tallonato da due avversari. Alla fine su di lui c'è il recupero degli abruzzesi ma grossa palla gol locale. Le squadre giocano corte, Favo ed Epifani vogliono una difesa alta al ventinovesimo da Todino a Grazioso che è in posizione giusta. Quest'ultimo sciupa il contropiede servendo male il centro dell'area di rigore. I ritmi sono intensi ma le occasioni diminuiscono con il passare dei minuti. Il Campobasso ha agito essenzialmente in contropiede difendendosi molto stretto. Il San Nicolò ha giocato in maniera sciolta tenendo per larghi tratti il possesso del pallone. Favo è costretto ad un cambio dal primo della ripresa. Deve entrare Bontà in luogo di Lanzillotta che accusa un affaticamento muscolare nell'intervallo. Rinaldi torna a fare il mediano puro. Al secondo della ripresa da calcio di punizione Gabrielloni potrebbe raddoppiare ma non vale nulla sia per la parata del portiere ma anche perché c'è un offside della punta di casa. Al terzo Alessandro sguscia via che è una bellezza una volta in area cade ma senza protestare. Dopo un contatto molto lieve con Rapino il signor Belfiore di Parma ravvede una simulazione dell'argentino. Al settimo dribbling secco di Bucchi su Bontà tiro a giro di pochissimo a lato. Selvapiana sommerge di Fischi l'ex di turno dopo il pericolo scampato. Lo stesso trattamento è riservato a Bucchi al quattordicesimo quando l'attaccante ospite manca la sfera su invitante traversone di Merlonghi. Per Epifani e doppio cambio al sedicesimo entrano Degidio e Chiacchiarelli per Massetti e Moretti proprio mentre Bucchi è fuori dal terreno di gioco perché sanguinante. Gabrielloni è esausto dal ventunesimo e Aquino a prendere il suo posto. Il campo basso cala e stenta a creare occasioni da gol. I rosso blu si rivedono da fermo al ventisettesimo di forza il colpo di testa di Aquino deviato ancora in calcio d'angolo. Al ventottesimo la grandissima rovesciata di Bontà termina alta ma Selvapiana applaude dimostrando di gradire il gesto tecnico del rosso blu positivo il suo impatto alla gara. Al trentunesimo da angolo avvita Brighi la palla esce neanche di troppo a lato. La partita di Aquino dura appena 13 minuti. Il giocatore sente dolore ed è costretto a lasciare il posto al Tascini dal trentaquattresimo. Al trentanovesimo Alessandro fa tutto da solo prima di una conclusione che si spegne a lato. Al primo minuto di recupero da punizione di Todino si gira in area in tutta libertà a Tascini ma il colpo di testa si spegne alto. Epifani chiude con l'ingresso di Cichella per Degidio subentrato a sua volta a Massetti. I ritmi calano notevolmente, le squadre si allungano, il pareggio è il risultato più giusto. La corsa playoff di Campobasso e San Nicolò si fa più accesa grazie al ritorno della fermana, quella che sarà la prossima avversaria del rosso blu nelle Marche.